Sono Nicoretta, la titolare di un centro nella periferia di Roma da poco più di un anno. Mi occupo prevalentemente di termopigmentazione. Sono una masterina da otto mesi e sono fiera di questa scelta, anche se inizialmente, quando mi sono trovata di fronte alla scelta di iniziare o meno questo percorso, comunque ho avuto molta paura. Ho paura di non essere in grado di farcela, di stravolgere la mia realtà, anche se si stava componendo da pochissimo. Sono riuscita a mettere in pratica gran parte degli insegnamenti del metodo e sin da subito mi sono resa conto della mia crescita, sia a livello di fatturato che a livello personale. Trovo questo metodo qualcosa di veramente strepitoso. Se mi dovessero chiedere che cos'è per te il master, per me il master è energia, è concretezza, è il mio faro, è quella porta a cui io vado a bussare ogni volta, ho bisogno di un consiglio, ho bisogno di confrontarmi con i miei insegnanti, con il mio tutor. Loro sono sempre lì, H24, a supportarmi. E questo è un aspetto per me veramente fondamentale, perché quello che ho trovato qui non sono riuscita a trovarlo altrove. Avere comunque un team in grado di darti e di insegnarti veramente cos'è l'essenza di un'imprenditrice dell'estetica non è stata una cosa che sono riuscita a trovare in altri corsi di formazione. Trovo il gruppo Facebook un bacino veramente top. È bellissimo essere lì continuamente in contatto anche con le mie colleghe, confrontarmi con loro, chiedere aiuto. Tutti i giorni è come se ognuna di noi mettesse un pezzetto di se stessa lì dentro. Quotidianamente lavoriamo affinché riusciamo a raggiungere i nostri obiettivi. Il corpo docenti è il massimo. Io non credo che nessun altro gruppo di formazione possa avere così tante persone all'interno specializzate in ogni singola area. Perché diciamocela tutta, essere un estetista a volte rispecchia una figura piuttosto banale. Invece qui l'estetista è tutt'altro, è un'evoluzione, è quella persona in grado di fare impresa. E avere persone che sono lì costantemente ad aiutarti sulla programmazione, sulle strategie di marketing, a livello personale, perché c'è da dire anche questo, la vita non cambia soltanto a livello professionale, cambia anche a livello personale. Io ho più tempo da dedicare ai miei effetti più cari. Chiaramente all'inizio richiede, come tutte le cose, maggior sacrificio, ma poter dedicare del tempo, grazie ad una buona gestione del centro, alle persone più care, beh, io credo che questo non abbia prezzo e valga tutto quello che appunto viene fornito nel metodo. Se dovessi dire una parola ad una collega che è indecisa, se affrontare o meno questo percorso, il consiglio più grande che potrei darle è quello di buttati, buttati. Non c'è, non c'è, questo è giusto e quello è sbagliato, devi lanciarti, devi lanciarti perché soltanto dall'altra parte hai la consapevolezza di che cosa vuol dire essere un'imprenditrice dell'estetica di successo. Io sono ancora all'inizio, ho ancora molta strada davanti a me da percorrere, ma sono orgogliosissima e felicissima di far parte di questa famiglia, perché poi alla fine questo è una bellissima famiglia e spero di poter arrivare quanto prima possibile al mio obiettivo.